Nessun luogo lontano è fatto di storie, storie che riguardano la nostra quotidianità anche se vengono da molto lontano. Ad esempio la telecamera che è imbracciata e che mi sta inquadrando in questo momento ha delle componenti in stagno. Il 30% dello stagno mondiale viene da una singola isola nell'oceano indiano, l'isola di Banca, dove i minatori fanno una vita tremenda, sono sottopagati 15 dollari l'ora, almeno un morto alla settimana colpisce la comunità dei lavoratori di Banca. Questa storia è racchiusa in una fotografia, una fotografia che la fotografa che ha scattato quell'immagine ci racconterà in diretta a questi microfoni e che è anche parte di un percorso fotografico sul cambiamento del clima e sull'intervento del luogo. uomo in questo mondo. Tutto questo per dire che è vero, gli esteri a volte risultano distanti, risultano fatti di grandi sistemi geopolitici, altre volte invece sono cose molto pratiche, molto fisiche, molto materiali, molto visibili che entrano appunto nella vita quotidiana di tutti noi.